Ciao a tutti ragazzi, qua Dexta e oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online Finalmente con nuove gare stante, ho preso la mia nuova Lamborghini ragazzi La Tempesta, auto fantastica, vai partiamo col turbo Allora mi sono praticamente innamorato di quest'auto, il rallentamento subito No via, le auto volano, andiamo, oh merda Allora questa è la mia, oh merda vai recupera, perfetto ci siamo Allora questa ragazzi è la mia primissima gara con la Tempesta Perché diciamo che l'ho utilizzata molto in modalità libera È veramente un qualcosa di fantastico, nulla, adesso ci sto facendo la prima gara Comunque sia, allora qui siamo in acqua come potete vedere Quella è andata a farsi fottere, io sono in prima posizione, andiamo subito Mamma mia, parte guidata, estrema e andiamo alla grandissima Ok perfetto, perfetto Allora sinceramente non so ragazzi come andranno queste gare Perché di solito con i nuovi veicoli ogni volta c'è il mistero delle rampe Ovvero se insomma le rampe siano adatte ai veicoli eccetera Comunque sia per il momento abbiamo fatto la prima parte guidata molto bene Qui c'è la seconda, andiamo Vai 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 Ok col tetto, vai tranquilla Tranquilla Tempesta Vai Mamma mia ragazzi, eccezionale Ci hanno dato pure i 25 punti a repistia Mandando alla grandissima in questo momento con la nuova Lambo Nuova Lamborghini Vai 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 Come vedete l'ho fatta arancione, nera Beh sono i colori Oh merda Ok ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Cazzo quello Lo sto No vabbè incredibile Avevo recuperato all'ultimo Ma poi sono andato fuori E' perché la rampa non l'avevo vista Giustamente Quindi sono rimasto fottuto Non lo sapevo Dovevo rimanere al centro Oh merda però non è semplice Vai al centro, centro, centro Ok ce l'abbiamo ancora ragazzi Siamo in terza posizione Com'è possibile Oh merda vai Adesso siamo in quarta No vabbè non è possibile Ragazzi siamo in terza Si è confermato No adesso Vabbè comunque si Si terza posizione per forza E che il gioco Mi prende un po' in giro Questo cos'è un wallride Ok vediamo un po' Primo wallride con la tempesta Oh merda Andiamo con calma Ragazzi perfetto vai Girati subito Mamma mia ce l'ho fatta ragazzi No comunque Quest'auto va benissimo Nelle gare stunt Almeno per il momento Qui dovremmo avere il Secondo giro Davanti ho un azentorno Ok secondo giro per noi ragazzi Comunque l'azentorno E' sempre una delle mie auto preferite Ragazzi Non c'è dubbio Prendi il checkpoint Niente niente Non ce l'ho fatta Vabbè purtroppo La troppa potenza Mi ha fatto andare Completamente fuori E ovviamente Abbiamo perso la seconda posizione Penso a questo punto In maniera definitiva Non lo so Comunque vediamo un po' Vai Vai turbo Che cazzo è No vabbè ragazzi Non è possibile Stavo facendo tutta la gara bene Arrivo lì E mi blocco Per questo fottuto punto Delle onde Turbo C'è il casino Proprio più totale Vabbè andiamo di nuovo Con potenza Vediamo un po' Vai 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 Ok adesso ci siamo Perfetto Il checkpoint preso Quello l'ha mancato Si sta tornando indietro Quindi Si ragazzi Siamo in terza posizione Comunque appunto Ho fatto questa colorazione Nell'auto Che mi piace tantissimo Sono insomma i colori Che utilizzo di più Su GTA Allora vai Prendiamo di nuovo Tutti in maniera guidata Anche se Abbiamo perso tantissimo tempo Quindi Dubito Che riusciremo Oh merda gli ostacoli Dubito Riusciremo ragazzi A recuperare I primi due giocatori Veramente una cosa Un po' improbabile Mamma mia Quello l'ho preso All'ultimo Ok ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Siamo riusciti A sopravvivere Non so come però Incredibilmente Ci sono riuscito Allora Qui dobbiamo fare la curva Adesso abbiamo qualche altra Parte guidata È una gara molto Molto tranquilla Vai 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 Scivolo col tetto Verso l'alto Salita col tetto Più che altro Ok qui ci siamo Andiamo Perfetto ragazzi Siamo dentro Il tubo Niente i primi Non lo so Sono veramente lontanissimi Ok seconda posizione Il primo dimmi C'è anche il primo O è uno che abbiamo doppiato O quello forse ragazzi È il primo Non lo so Vai velocità 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 Andiamo Potenza Potenza Vai tempesta Ok ragazzi Andiamo Niente il primo Ha concluso Ok Quello è uno Che abbiamo Praticamente doppiato Il gioco ovviamente Dove prendermi in giro Vedete questo qui È uno che abbiamo doppiato Non è il primo Perché il primo Cazzo è concluso Allora Facciamo Questo wall ride Oh merda Niente L'ho persa L'ho persa Sono andato troppo in alto Comunque sì Ormai ci piazzeremo Probabilmente Tra la seconda La terza Forse anche la quarta Manca l'ultimo Checkpoint Andiamo Vai 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 Teniamola Teniamola E prima l'avevo fatta andare Troppo su Ma adesso ci siamo Giriamola subito Ok Quella ha sbagliato di nuovo Ok siamo in seconda Allora Va bene Mi sta bene ragazzi Mi sta bene Siamo in seconda posizione E andiamo a Concludere adesso E boom Intanto c'era gente Che ricompariva Non so per quale motivo Comunque sì Seconda posizione per noi Prima gara con la tempesta Andata benissimo Se non fosse Stato per quel punto Ragazzi Lì dell'onda Che mi bloccava Ho superato pure il checkpoint Forse Ci saremmo potuti Piazzare pure nella prima Non ne ho idea Però comunque sia la seconda Va benissimo così Molto bella Adesso andremo a fare un'altra E rieccoci qui Sempre con le super Questa volta però Ho scelto La mia osiris Allora qui dovremmo avere Un albero di natale Infatti ragazzi Costruito con i tubi Poi forse Lo vedremo meglio Comunque siamo partiti subito Col turbo Quello perché spinge Oh merda Ah forse perché volevano Tutti il turbo Non lo so ragazzi Adesso ci scontreremo Forse tutti Li vediamo un po' Si gente che vola Mamma mia Il macello Allora andiamo subito Nel tubo Con calma Esci qui Checkpoint preso Merda Quello è un wallride Superiamo Via 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 dalle palle Via dalle palle Oh merda No vabbè Vabbè Allora io stavo spingendo quelli Perché cazzo Dovevo passare Però il problema è che Mi hanno toccato E l'auto si era andata A destra Tutta ad un colpo Comunque qui abbiamo Un wallride tranquillo Era pure guidato Cosa molto buona Che cazzo è qui Oh merda C'è un secondo Ebbè io non lo sapevo Non lo sapevo ragazzi Allora poi dobbiamo Praticamente abbassarci Perché c'è appunto Secondo wallride E basta Ok solo due Solo due Allora vai Prendiamo questo con calma Quello intanto è andato A farsi fottere con La tempesta Vai giù Ok perfetto Andiamo tranquillamente Qualcuno Qualcuno mi sa Che mi aveva toccato Comunque siamo in seconda Molto Molto buona come cosa Seconda posizione per noi Vabbè era semplicissimo Io ovviamente Non lo sapevo A primo colpo Quindi Ho perso Un po' di tempo Allora giriamo l'auto Alla perfezione Oh merda Arrivano quelli Perfetto Non li ho colpiti Per pochissimo C'è la gente Mamma mia Devo andare a sinistra Via Via che arrivano tutti Con potenza Ok guardate L'albero di Natale È molto Molto bello ragazzi Non so se entreremo Addirittura dentro Ma non credo Forse sì Non lo so Comunque abbastanza Particolare come Costruzione Adesso dobbiamo salire In questa spirale In questa spirale Siamo sempre in seconda Volt ci dà la prima Ma è un po' strano Vai 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 Non fermiamoci Osiris Per nessun motivo Ok Non dirmi che c'è un secondo qui Ok Check point preso Se ci fosse stato un secondo Ragazzi Non l'avrei visto Non l'avrei visto Per niente Oh merda Quello era il primo Facciamo questa curva Comunque una gara Abbastanza strana Cioè ha dei punti Nello stesso punto Comunque sia bella Molto diversa dal solito Andiamo Qui non c'è il turbo Mi aspettavo il turbo Ma non c'è stato C'è adesso qui invece Vai andiamo Tutto il turbo Perfetto Osiris Check point preso Il primo è precipitatore Ok Allora giriamo La nostra Osiris Con calma Perfetto Girati ancora E ci siamo ragazzi Ok Atterraggio perfetto Ripartiamo subito Fortunatamente quello Non mi ha colpito Comunque abbiamo due giri Quindi adesso Dovrebbe esserci il secondo Penso Cioè penso proprio di sia Check point preso Siamo nella parte iniziale Andiamo 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 Dai che è il primo Forse prima della fine Ragazzi Posso recuperarlo Non lo so Ma cercherò di fare il possibile Nessuno deve Colpirmi Ok Secondo giro Ho colpito Andiamo col turbo Il primo è lì ragazzi Ha fatto adesso la salita Dai che ti vengo a prendere Dai che con Losiris Non puoi scappare Vieni qui Ok Altro check point Andiamo ragazzi dentro i tubi Vai 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 Cerchiamo di fare tutto Ecco ormai l'abbiamo preso Ormai l'abbiamo preso Vai Tutto guidato Con calma Ok Adesso dobbiamo scendere Ora vai scendi Perfetto ragazzi Altro wall ride Andato benissimo Vai che ti prendo Niente Siamo vicinissimi ormai Siamo vicinissimi Saltiamo poco Check point preso Quello Quello aveva rallentato Un bel po' Comunque giriamo subito L'auto Ah è passato accanto Andiamo ragazzi Velocità Velocità Prima posizione Per noi Ok ce l'abbiamo fatta Il recupero è andato Merda Quello per poco Non mi ha preso Turbo 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 E beh qui ce la giocheremo Perché c'è sempre La fottutissima scia Eccetera Quindi sarà Sarà veramente un casino Io cercherò ragazzi Di fare il possibile Allora abbiamo adesso La spirale Vai Cazzo Attenzione Quello mi ha toccato Ma ci siamo ancora Ci siamo ancora Vai saliamo Niente in qualche modo Sono riuscito A recuperare l'auto Prendi il check point Che è qui Ok perfetto Allora quello forse Ha sbandato Sì ragazzi La stava rifacendo Avevo visto il puntino nero La sua auto Niente siamo in prima posizione Cosa molto molto buona E diciamo che Proverò a gestire il tutto Non voglio parlare Sempre tantissimo Però Cerchiamo di Gestire il tutto Perché qui quando parli Un po' troppo Poi ci rimani fottuto Quindi Non lo so Vedremo come andrà Allora tutto il turbo Preso Check point preso Ragazzi Ne mancano pochissimo Adesso giriamo Il nostro Osiris Il secondo Ha fatto adesso La rampa Vai giù Non colpitemi Bastardi Riparti 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 Subito Andiamo che qui Non possiamo mollare Neanche un attimo Vai col turbo Perfetto Check point preso Andiamo qui Zona un po' Bastarda Perché puoi Volare fuori Vai 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 Altro check point Ragazzi Stiamo andando Veramente alla grande Mi hanno colpito Via 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 Ovviamente la spinta Non poteva mancare Così giusto Per dare un po' Di suspense Ultimo check point E andiamo ragazzi A concludere In prima posizione Con la nostra Osiris Abbiamo veramente Dominato questa gara Con poi il recupero Quasi alla fine E' andata benissimo Non ci sono parole E niente ragazzi Fantastico Abbiamo fatto tutta La perfezione Tranno ovviamente Il primo world ride All'inizio Che poi c'era il secondo E non lo sapevo Però devo dire Che la gara E' andata molto molto bene E poi c'è appunto Anche stato il recupero finale Ragazzi che dire Io spero che il video Vi sia piaciuto Abbiamo giocato due gare Molto belle In una c'era anche L'albero di Natale Quindi gare Praticamente natalizie E nulla Sono andate molto bene Ho anche provato Per la prima volta La tempesta Io spero che il video Vi sia piaciuto Quei da extra Lasciate un bel mi piace E ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Ciao